Siamo a Interpac 2017 con Franco Menetti, Marketing Manager IMA Tea & Herbs Division, che ci parlerà di una novità in questo settore. Grazie, siamo davanti al modello C59 che è una delle ultime macchine sviluppate da IMA per il settore delle bustine da tè ed è una novità sia per il fatto che presentiamo un sacchetto di nuova concezione sia per il fatto che abbiamo presentato una macchina che è un'integrazione di due macchine e questo ci ha permesso di ridurre molto il footprint della macchina. Il sacchetto è stato sviluppato da IMA e è stato anche brevetato e la bellezza di questo secchetto è il fatto che quando viene immerso nell'acqua con i due gasset laterali riesce a fare un'infusione migliore. La parte di floppacatrice che è quella che protegge il prodotto è stata sviluppata insieme alla nostra consociata, la ILPEC e che ci ha permesso poi di sviluppare la macchina in tempi molto rapidi anche perché il cliente inglese che ci ha commissionato la macchina aveva bisogno e la necessità di entrare sul mercato in tempi veramente corti. La macchina ha una velocità di 900 bustini al minuto e diciamo che le due zone della macchina hanno entrambe le giunzioni automatiche in questo modo l'operatore non deve fermare la macchina per il cambio dei materiali. Quando non avevamo la possibilità di avere questa integrazione questo lavoro era fatto da due macchine abbinate e l'abbinamento creava sempre qualche problema. La macchina dispone anche di un pannello operatore di nuova concessione dove sono state facilitate molto le operazioni sia per il manutentore che per l'operatrice. Il manutentore ha una sua zona, una sua area dove può verificare lo stato della macchina anche cosa è successo durante la giornata se tutti i parametri di produzione sono stati nella zona verde che è la zona di funzionamento regolare della macchina. Mentre per l'operatrice che ha una diversa necessità lei ha bisogno di vedere la produzione giornaliera ha bisogno di tenere sotto i parametri che determinano la qualità della produzione che viene realizzata ha le sue pagine e lei ha la possibilità di accedere alla sua area. La macchina ha una velocità di 900 bustine al minuto e la zona più nuova è la zona del dosatore che permette di dosare ad alta velocità anche prodotti erbali non solo il classico tè o tè verde ma anche prodotti erbali quali camomilla, menta, rooibos, liquirizie che generalmente prima venivano confezionati a velocità molto più basse. La macchina come dicevo è sul mercato già in diversi esemplari in Inghilterra stanno funzionando bene pur essendo una novità della vendita sta incontrando la soddisfazione dei clienti e aspettiamo che questa soddisfazione continui nel tempo. Grazie Grazie